Applausi 300 mila lire 300 mila lire Anche la giacca è abbastanza Giacca abbastanza bella Perché è un cappotto di cash Vuol vedere anche questa giacca? Credete che sia pazzo? Allora diciamo che è pazzo Diciamo che Giannaccio è pazzo Diciamo È pazzo di Non rida Ce la faccio Ce la faccio Sì non respiro io Giacati 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 Grazie!